Giorno 482. Gli aggiornamenti di oggi vengono principalmente da sud. Quasi come per confutare ogni ipotesi che metteva in dubbio la solidità dal controllo su piatti katki, il combattente ucraini ha rilasciato numerosi video dei combattimenti. Questi mostrano un intenso bombardamento sulle posizioni russe come parte della preparazione d'artiglieria prima dell'assalto. Questa preparazione in particolare è avvenuta tra piatti katki e gere bianchi, dove è stato diretto uno degli attacchi. Attacco che ha permesso di ottenere due obiettivi fondamentali, isolare le truppe russe da ogni tipo di supporto e stabilire le condizioni per un accerchiamento. È stato anche mostrato l'uso di un sistema di sminamento UR-77 vicino all'insediamento. A giudicare dalle immagini, non è però stato usato per aprire una strada in un campo minato, ma per distruggere le posizioni russe nella linea di alberi di fronte alle posizioni ukraine nella foresta. Dopo aver ripulito la zona circostante e aperto la via per l'attacco sull'insediamento, gli ukraine hanno individuato il punto di maggiore esistenza e utilizzato l'artiglieria per sopprimere il fuoco russo e minare le loro difese. Questo ha permesso agli ukraine di entrare nella parte ovest del villaggio e video mostrano che i russi hanno portato i propri carri verso il centro dell'insediamento e distrutto le case che gli ukraine usavano come copertura. Le prossime immagini mostrano le forze russe mentre ritirano l'equipaggiamento pesante a causa della situazione difensiva in peggioramento. Tuttavia, come detto all'inizio, la prima asse d'attacco ukraine è diventata la strada che connette i due villaggi, quindi il convoglio si è ritrovato in un'imboscata ed è rimasto distrutto. Ci sono molti video provenienti dagli operatori di droni, il che suggerisce che diversi corazzati russi sono rimasti distrutti da droni suicidi. Un cambiamento così repentino ha permesso agli ukraine di far avvicinare i propri carri al villaggio, come mostrano i video che hanno ripreso i carri operare nella parte ovest di Piatikatki. Poco dopo, gli ukraine avrebbero preso in una sacca il battaglione Ossezia e liberato completamente l'insediamento. Nella giornata di ieri, le forze russe hanno comunque provato a ricatturare Piatikatki con un enorme assalto meccanizzato. Sfortunatamente per loro, gli ukraine avevano stabilito un'estensiva zona di controllo di fuoco sulle principali strade usate dai russi, individuato la colonna mentre si avvicinava. Geolocalizzazioni mostrano che i carri e i corazzati russi hanno cominciato a subire il fuoco d'artiglieria sin da scere bianchi, riuscendo a percorrere una cinquantina di metri prima di esser distrutti. I combattenti ucraini hanno riportato che dopo aver perso quasi tutto l'equipaggiamento, i russi sulla linea di contatto hanno continuato l'attacco con la sola fanteria, cosa che non ha funzionato particolarmente bene. Nel frattempo, gli ucraini hanno continuato ad avanzare. Oggi è stato confermato che le forze ucraine hanno condotto con successo un'operazione offensiva nelle vicinanze della prima gola a nord. Se guardiamo la mappa topografica, possiamo vedere che l'area facilita molto l'avanzata in quanto protegge dal fuoco incrociato. Essendo già gli ucraini in controllo di Lopkova, questo ha permesso loro di controllare completamente la collina dalla quale gli ucraini possono cominciare ad attaccare le posizioni russe nella linea di alberi. Molte fonti russe riportano che gli ucraini hanno stabilito controllo di fuoco sulla strada che connette Gere Bianchi all'UOV, il che indica che gli ucraini sono riusciti ad avere successi significativi e ad avvicinarsi a Gere Bianchi da nord. Potete notare che l'approccio usato qui è lo stesso usato a Piatikatki, in quanto ora gli ucraini stanno mettendo enfasi sul tagliare le vie di rifornimento e supporto al gruppo russo, isolare individualmente le varie posizioni e stabilire condizioni per un accerchiamento. Anche se è difficile circondarle fisicamente, le forze russe non hanno comunque via di scampo. La strada ovest è sotto il controllo di fuoco, i campi a sud sono minati e gli ucraini stanno avanzando da nord e da est. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.